ciao a tutti come promesso iniziamo a decorare il mio albero di natale seguendo passo a passo i giorni dell'avvento quindi con il primo giorno di avvento ho deciso di regalarvi un sorriso perché l'avvento è un tempo di attesa e di gioia quindi voglio darvi un sorriso che vi accompagni lungo tutto questo cammino eccolo qui e lo appendiamo al mio albero regalate anche voi un sorriso ma soprattutto regalatevi un sorriso